ciao a tutti ragazzi finalmente torno a fare un video dopo innumerevoli vicissitudini questa volta faccio il video sull'alimentatore che mi ha mandato saddi per farmi un dispetto praticamente che è l'lc power 420 watt 80 plus 230 volt comunque anche la certificazione che ha un po delle potenze strane che adesso andremo a vedere vi risparmio l'unboxing perché praticamente c'era dentro solo l'alimentatore e basta perché in effetti è già qua allora la cosa bella di questo qui è che è da 420 watt che però in realtà sono 350 watt continui perché 420 watt però sono di picco in realtà però sono 335 watt sulle rail principali di cui 264 watt sul 12 volt quindi praticamente abbiamo un alimentatore che reale è un 350 watt più verso i 300 watt in quanto il 12 volt è abbastanza sotto la media come potenza e quindi andremo a vedere come va da spento un po di rumore di fondo c'è che altro è basso però non è niente di grave andiamo a vedere primo test lo facciamo come al solito a 160 watt ah non abbiamo fatto quello in cross load che alla fine tutto sommato non soffre neanche in modo così tragico diciamo che allora a 160 watt abbiamo un ripple sul 12 volt con scala a 10 millivolt che è di circa 30 millivolt se riuscite a vedere potete vedere un'onda doppia praticamente c'è un'onda con un'ampiezza molto più stretta e poi la sinusoide che vedete vera e propria sono come due onde sinusoidali sovrapposte è una cosa abbastanza strana che non ho mai visto comunque il ripple in sé è basso quindi vabbè non c'è problema sul 5 volt abbiamo un'onda che non ha sicuramente molta voglia di star ferma continua a traballare e che comunque direi che possiamo definire intorno ai 20 25 millivolt quindi siamo ancora tutto sommato con un risultato comunque a buono per l'alimentatore che sembrava essere quindi va tutto bene per ora anche sul 3.3 volt onda che balla un po' con anche qualche ripple spike direi che la fa avvicinare a un tenendone conto sarebbero sui 50 millivolt però sono molto sottili non capisco sto traballamento ma vabbè secondo test come solito lo facciamo intorno ai 300 310 watt vediamo che il consumo non è neanche così abnorme perché è intorno ai 350 watt alla presa i voltaggi sono tutto sommato abbastanza stabili sul 12 volt abbiamo l'onda che avevamo anche prima però aumentata intorno a un 45 millivolt totali che comunque ci lascia ancora margini per i test finali sul 5 volt ritorniamo l'onda sballonzolante che è intorno a 20 millivolt complessivi direi e mi va bene e anche sul 3,3 volt stessa situazione di prima siamo intorno a un 40 millivolt tenendo conto degli spike che comunque non vanno fuori specifica quindi va abbastanza bene così siamo intorno ai 400 410 watt che in linea teorica sono il massimo che dovrebbe prendere anzi questo alimentatore ha un rating sul 12 volt che è solo di 264 watt quindi qui siamo già a 350 siamo già ben oltre infatti come vedete adesso ha preso un bel abbassamento in ogni caso con ancora la scala 10 millivolt per divisione siamo intorno ai 60 millivolt quindi non ha nemmeno sofferto più di tanto questo sovraccarico perché siamo già in overload secondo quelle che sono specifiche di etichetta in effetti la ventola sta anche aumentando un po' l'andazzo 5 volt costantemente sui 25 millivolt di ripple con sempre questa forma d'onda che abbiamo già visto prima andiamo a vedere si comincia a sentirla ma comunque non è niente di niente di esagerato per ora il 3,3 volt resta intorno ai 40 millivolt totali con un'onda che finalmente sembra che voglia decidersi a star ferma quindi va bene andiamo a vedere se interviene la protezione ho i miei dubbi però proverò lo stesso 200,300 andiamo 460 510 si è vista il 12 volt che ha preso una specie di calcio in faccia 560 ecco il calcio che gli è arrivato proprio alla grande guardate le lampadine che praticamente voi magari vedete poco ma diventano praticamente gialle il ripple è salito considerevolmente rispetto a prima adesso eh si è anche spento guarda tutto sommato in modo pigro ma non più pigro di tanti altri alimentatori che abbiamo visto attualmente tutto sommato pensavo molto peggio a questo punto sono curioso di andare a vedere che cosa trovo dentro allora allora vediamo se riesco a farvi vedere un po' di tutto la piattaforma è una grid wall c'è anche scritto qua in alto ma non so se si riuscirà a vedere granché ma io ci tento lo stesso di farvelo vedere è somigliante un po' a quella dei WS ma con delle differenze comunque la parte filtrante è fatta direi anche bene perché ci sono due condensatori Y sul filtro due sulla piattaforma condensatori X induttanze ponte raddrizzatore GBU 406 che non è esattamente il massimo della vita ma che comunque visto che un alimentatore di potenza bassa ci sta anche le note dolenti vengono più che altro sui condensatori perché allora al primario abbiamo non riesco a farvelo vedere perché ho fatto fatica a vederlo io è un Capxon da 150 microfarad che comunque abbiamo visto di meglio ma anche di peggio diciamo che non è il massimo più che altro quelli che sono preoccupanti sono tutti questi strani condensatori qui al secondario già il colore arancione quando li ho visti mi ha fatto sospettare qualcosa di brutto perché sinceramente non li avevo mai visti e sono della marca ZHN sono praticamente tutti ZHN e diciamo che questi qua sono una promessa di non durare a lungo per un alimentatore perché tipicamente sono dei condensatori che non sono durevoli questi qua invece misteriosamente sono due T-App mentre poi tutto quello che è la parte secondario sono appunto di questa marca assurda cinese e diciamo che il difetto grave che posso trovargli è questo qui perché comunque come performance non è neanche andato male il serino finale per questo alimentatore è che a fronte di un test che comunque non era andato male nonostante ci siano in gioco potenze relativamente basse perché comunque un alimentatore piccolo da 350W reali sembrava andato anche bene invece poi alla fine diciamo che c'è caduto sulla componentistica che purtroppo è di qualità molto inferiore alle aspettative un po' il contrario di quello che era capitato con l'ACBEL dove avevamo una componentistica che sulla carta sembrava una canonata e invece poi l'alimentatore andava male il problema è che non va bene neanche in questo caso qui perché comunque se abbiamo dei condensatori che di sicuro non sono duraturi avremo possibili decadimenti delle prestazioni quindi direi che lo possiamo lasciare dov'è anche perché comunque non è molto diffuso il momento sui listini quindi non ci mancherà detto questo vi saluto tutti speriamo di ritornare in attività più regolare nell'arco del mese prossimo saluto Saddi, gli faccio i complimenti per i 50.000 iscritti lo ringrazio per l'alimentatore e so che adesso poi rivelerà il suo nome che comunque su Telegram ho già detto a tutti perché si chiama Aieie sono pronto, come si chiama? Aieie Aieie? come si scrive Aieie? sentiamo Aieie A I come lunga E Aieie si ripete Aieie per favore anche lei già faccio fatica con lui per favore Gluvodbene